Presidente Signorini, la portualità fondamentale in questa regione, ma qui Savona è una doppia importanza, perché da un lato c'è uno scalo turistico, dall'altro una piattaforma a Vado Ligure che si deve sviluppare, e allora il traguardo quale sarà, dove sta guardando l'autorità portuale in questo senso? Ha detto benissimo, diciamo, noi in questo momento abbiamo due sfide per porre a rimedia una preoccupazione. La preoccupazione è che, voi sapete, Savona è era di crisi complessa, quindi c'è una situazione economica negativa degli anni pregressi che stiamo cercando di invertire, soprattutto con l'azione della regione e del comune. L'autorità portuale può fare molto, perché noi abbiamo a Vado la piattaforma Merci, quindi una grande piattaforma, la più moderna del Mediterraneo, per i container, e abbiamo a Savona il potenziamento dell'attacco delle crociere con i lavori che stiamo facendo di potenziamento del terminal di costa per l'arrivo di navi sempre più grandi a partire dal 2019. Questi ovviamente sono nuovi investimenti che portano a nuova occupazione, quindi nuovo benessere. C'è da vincere una terza sfida che tutto questo porta, cioè l'incremento del traffico, da cui l'argomento di oggi del convegno che è senz'altro azzeccato, perché ulteriori camion sulle strade o l'arrivo in città di quantità di turisti sempre maggiori, chiaramente pone uno stress sulla mobilità sostenibile della provincia. Stiamo intervenendo anche su questi fronti, con investimenti sulla strada di scorrimento al casello di Savona e in prospettiva al nuovo casello di Bossarino, così come sul potenziamento della fluidificazione, del passaggio dei turisti che dai terminal al crociere devono entrare in città, possibilmente non insistendo sull'Aurelia in modo pedonale, perché questo crea un ulteriore aggravio al traffico cittadino.